buongiorno a tutti e bentornati sul canale tutti a tavola con laura oggi vi propongo un'altra ricettina golosa con la zucca facciamo un primo piatto condito con questa crema di zucca gorgonzola e mascarpone completando con dello spec croccante scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e seguite tutto il video e la ricetta iniziamo con la nostra zucca a cui aggiungo un goccino d'acqua la copro con la pellicola e la metto per un paio di minuti nel microonde in modo che si ammorbidisca un attimo dopodiché prendiamo uno scalogno lo trito per bene e ci servirà per il soffritto in ultimo prendiamo il nostro spec e cominciamo ad affettarlo a fettine sottili sottili per poi ricravarne delle striscioline che faremo soffriggere ecco qui dopodiché passeremo ai fornelli e ai fornelli cominciamo facendo scaldare un filo d'olio nella padella aggiungiamo lo speck e facciamo soffriggere deve diventare leggermente croccantino dopodiché lo toglieremo dalla padella e passeremo al successivo passaggio giusto circa 2 3 minuti il nostro speck è diventato croccante lo tolgo momentaneamente dalla padella ecco qua e nella stessa padella rimetto un filo d'olio ecco faccio soffriggere lo scalogno anche questo per circa un minutino non di più non deve diventare scuro aggiungo ancora un po d'olio perché mi ho messo proprio poco ecco qua e a questo punto possiamo aggiungere la nostra zucca anche se c'è dentro l'acqua non è un problema rimane morbidina ecco qua e facciamo andare il tutto per circa un cinque sei minuti la zucca si deve proprio ammorbidire e quasi quasi spappolare per bene ecco saliamo e procediamo alla cottura la nostra crema perché più che un sugo è praticamente una crema è pronta adesso quando la pasta è pronta la facciamo saltare leggermente in padella poi serviamo e ci accomodiamo a tavola ragazzi ho fatto un disastro non ho schiacciato il bottone per registrare non vi ho fatto vedere il passaggio dove ho aggiunto lo speck e il gorgonzola con il mascarpone all'interno della pentola con la zucca ma semplicemente ho fatto scivolare dal piatto lo speck e ho inserito il gorgonzola con il mascarpone girando poi il tutto e formando questa cremina eccoci siamo pronti ad impiattare la nostra pasta zucca gorgonzola e mascarpone con speck croccante è pronta la serviamo così ben calda con qualche guarnizione di speck eccola qua ecco qui il nostro piatto pronto per essere portato a tavola se la ricetta e il video vi sono piaciuti condivideteli mettete vi piace e iscrivetevi gratuitamente al mio canale e adesso tutti a tavola con Laura